Non si arrestano gli incendi in Campania, la provincia più colpita sembra essere quella di Salerno. Infatti si sono registrati diversi roghi boschievi in numerose località in cui è stato richiesto l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, delle squadre antincendio della comunità montana Lento-Montestella e dei mezzi aerei ed elicotteri. Nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sono state sgomberate alcune abitazioni, poiché le operazioni di spegnimento non sono state sempre semplici da gestire. Tra i diversi comuni cilentani le fiamme hanno colpito anche l'ustracilento, provocando paura e tensione. Il primo cittadino Luigi Guerra, a tal proposito, ha annunciato sulla sua pagina Facebook. Ieri sera si è verificato l'ennesimo incendio in pochi giorni, solo grazie ad un previdenziale intervento da parte dei Vigili del Fuoco, non si è verificato il peggio. Per contrastare il fenomeno, in queste ore provvederemo ad acquistare delle telecamere trappola, le quali verranno posizionate sulle strade e nei boschi, sperando una volta per tutte di consegnare alla giustizia questi criminali. Gli incendi boschivi rappresentano la principale causa dell'impoverimento e del degrado del patrimonio forestale campano e determinano gravi squilibri all'ecosistema forestale e all'ambiente, ponendo in alcuni casi a rischio le popolazioni che in ambito rurale, ma non solo, risiedono. La vigilanza e la collaborazione di tutti sono essenziali per salvare il nostro patrimonio boschivo, fondamentale per l'efficacia delle operazioni di spegnimento e il pronto intervento sui focolai di incendio. Lo ricorda la Regione Campania che ha istituito uno speciale numero verde, 844 99 11, per le segnalazioni degli incendi boschivi. Chiamando questo numero gratuito, ogni cittadino può segnalare le situazioni di pericolo per il bosco. Tale numero verde della Regione si affianca ai numeri di emergenza 1515 del Corpo Frestare dello Stato, dal 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal numero verde 823 25 25 della Protezione Civile Regionale, che concorrono nel sistema antincendio boschivo della Regione Campania.